Sarete certamente accorti, siamo approdati su Facebook, la viviamo come una grande promozione, quindi sono molto contento di inaugurare questo nuovo corso di questa trasmissione, chiamiamola così. Non so quindi se mi vedete o mi sentite, ma insomma mandatemi un cenno, scrivete qualcosa, un cuoricino, quello che vi pare. Come notate, io sono Mattia, studio, insomma ve lo ricordiamo tutte le volte questa serie di pillole di divulgazione culturale promosse da Usiena Campus con, in collaborazione con l'università, Iuredio, associazione di cui faccio parte, ciclo maggio. E come vedete divido lo schermo con il professor Angelo Riccaboni, lo leggete anche nel sottopancia, che è qui insomma per raccontarci di un tema molto particolare in occasione di una giornata molto particolare. Innanzitutto benvenuto e cosa festeggiamo oggi? Beh oggi è una giornata importante perché è la giornata della Terra e è il cinquantenario tra l'altro, quindi è anche la cinquantesima volta, quindi hanno fatto tutto per noi oggi, per Studium. Quindi Studium oggi è veramente in linea con un movimento globale, io oggi ho partecipato a due, a un webinar di 24 ore, io ho partecipato solo per dieci minuti, naturalmente un webinar di 24 ore. Io ho fatto abbastanza, insomma un tonico per rianimarla dopo 24 ore di web. Esatto, 24 ore che è cominciato dalla Cina stanotte, che dura appunto fino a tutta stanotte, che un'ora per paese, oggi c'era un'ora per l'Italia, io ho aperto questa ora sull'Italia, proprio perché diciamo che c'è un grande interessamento sui temi della Terra, sui temi dell'ambiente ovviamente, e questo fatto che sono cinquant'anni, vuol dire che è da tanto tempo che questo argomento è al centro dell'attenzione, con risultati diciamo magari non fantastici, però ecco diciamo che perlomeno c'è la forte attenzione. Ora, con questo grande focus che i più giovani stanno dando a questo argomento, siamo tutti un po' più speranzosi, perché voi siete naturalmente il futuro, il fatto che c'è una adesione, anche una partecipazione sostanziale, non solo simbolica da parte delle generazioni più giovani, è un bel segnale. Covid un po' sta forse mettendo, sospendendo tutto anche questo, però credo che questa spinta continuerà. Certo, ecco sì, insomma saremo alla generazione del futuro a livello anagrafico, poi a livello decisionale, se ci sarà permesso a un certo punto anche di avere una voce in capitolo. Dunque, in questo webinar mondiale, e come insomma voi leggerete nel sottopancia, perché oggi siamo dotati di strumenti innovativi, si parla di innovazione per l'agri-food, nella fattispecie post-covid. Cos'è l'agri-food? Cosa si intende per innovazione in questo campo? E come cambierà il nostro futuro? Beh, sono domande impegnative diciamo. Allora, innanzitutto hai fatto bene a parlare di agri-food, e ancora meglio bisogna parlare di agri-food system, perché bisogna avere una visione olistica, che è un po' quello che ci insegna anche Covid, no? Se vogliamo questa terribile cosa, questa terribile pandemia, questo terribile evento che sta succedendo, purtroppo, però ci ricordano che siamo veramente un sistema, che va visto tutto in termini sistemici, non si può più vedere per silos, no? Cioè vedo solo l'agri, vedo solo il food, vedo solo l'ambiente, vedo solo la salute. D'altronde, se pensiamo che questa pandemia deriva da… Ricordiamo che i coronavirus sono portatori di quelle che sono malattie, si chiamano zoonotiche, cioè malattie che saltano dal mondo animale agli umani. E quindi già quello dà l'idea che non possiamo considerare questi due mondi come due mondi che non sono connessi, sono molto connessi, e se non stiamo attenti, e purtroppo non siamo stati attenti, ci sono questi salti che certamente, come abbiamo visto, fanno molto male. Fanno molto male, e purtroppo noi contribuiamo a questi salti, perché questi salti sono anche in qualche modo favoriti, dal fatto che noi distruggiamo l'ambiente, dal fatto che distruggiamo la biodiversità, dal fatto che la terra viene sfruttata eccessivamente. Questi sono tutti canali che agevolano questi salti. La produzione del cibo industriale su larga scala, gli allevamenti industriali che pongono un'eccessiva vicinanza fra l'uomo e gli animali. Tutte queste cose qui aiutano a questi salti, perché è un sistema. Quindi l'agri-food che cos'è? È l'insieme dell'attività e dei processi che partono dal momento in cui io coltivo, o addirittura ancora prima, da quando io scelgo, fornisco i semi, tutte le varie attività, dalla produzione primaria, la trasformazione, il trasporto, la distribuzione, il consumo, e anche oltre al consumo, la salute, tutto questo ciclo viene chiamato sistema agroalimentare. Ecco, a proposito di salute, insomma tema quanto mai attuale oserei dire, che cosa ci sta insegnando quindi di questa pandemia relativa a tutto questo sistema dell'agri-food? Beh, ci sta insegnando due cose, purtroppo che sono molto importanti e che tendiamo a dimenticare. La prima cosa è che vi sono, di nuovo, oserei dire, anche nel mondo occidentale, dei problemi grossi di quella che viene chiamata la sicurezza alimentare. Cioè, il fatto che tutti vorremmo, tutti avremmo diritto a cibo nella quantità, nella qualità desiderata, in maniera tale a poter condurre delle vite sane e con nutrienti coerenti con tali tipi di vita. Questo è il concetto di sicurezza alimentare. Allora, fino all'altro giorno pensavamo che solo alcune, come possiamo dire, alcune fasce marginali della popolazione nei paesi industriali avessero questi problemi. Purtroppo sappiamo che ci sono delle fasce marginali che hanno problemi di accesso al cibo. Ma pensavamo che in generale... E questi libri si chiamava terzo mondo, insomma. Ma anche nel nostro mondo, purtroppo, ci sono problemi di povertà alimentare. Però marginali, qualche punto percentuale. Cos'è successo? Invece abbiamo avuto il panico delle corse ai supermercati e per qualche giorno qualcuno ha temuto di rimanere senza cibo. Abbiamo, purtroppo, difficoltà di mobilità della forza del lavoro e quindi alcune produzioni saranno a rischio. E poi, più che altro, una grande minaccia che speriamo di non soffrire da questo, alcuni paesi, proprio per quello che sta succedendo, stanno cominciando a chiudere le frontiere anche in termini di esportazione di cibi, scusate, di materie prime. E quindi, se le materie prime non fluiscono nel commercio mondiale secondo schemi che erano abituati, è chiaro che mancando le materie prime pensiamo al riso, pensiamo al frumento, pensiamo, ci sono diverse categorie di materie prime che sono indispensabili e si succede che si rallentano queste trasmissioni di materie prime e ci possono essere dei problemi di approvvigionamento. Questo fino a sei mesi fa era impensato. Uno poteva scegliere qualsiasi tipo di cibo da qualsiasi parte del mondo senza nessun problema. E questo è il primo insegnamento. Il secondo è quello che... Prego. Il secondo invece? Il secondo è quello che abbiamo accennato prima, cioè la salute è una sola, la salute del pianeta e anche la salute del cibo e la salute degli umani sono fortemente correlate, cioè non possiamo pensare che non ci sia questa fortissima connessione. Se noi trattiamo male il pianeta si riverberà sulla salute di noi stessi. Se non mangiamo in maniera adeguata, cioè mangiamo cibi che purtroppo a volte non ce lo ricordiamo, non ce ne diamo conto, possono avere un effetto poco positivo sulla nostra salute. Quindi la salute è una sola, quella del cibo, che deve essere prodotto nel modo giusto, bisogna mangiare quello giusto, diventa la salute della persona e la salute del pianeta. Quindi ecco perché dobbiamo stare attenti a quello che mangiamo. Certo. E in questo senso però siamo limitati in questo mondo, come si dice, rallentato dal Covid, perché sappiamo di dover limitare le nostre uscite quotidiane, andare a fare la spesa, insomma sarebbe consigliato farlo una volta alla settimana, comprare cibo fresco, che immagino sia un po' la morale del discorso che faceva prima, diventa sempre più complicato. Bravissimo. Allora qual è il tema? Il tema è scendiamo il breve termine dal medio-lungo termine. Allora è chiaro che nel breve termine quello che ho detto rischia di essere un po' sospeso, proprio perché la gente, questi sono i dati chiaramente che vengono dal mercato, tende a mangiare cibi che stanno nelle nostre dispense per più giorni, per ovvi motivi, e quindi trascurando spesso il cibo fresco a favore di cibi che restano per più tempo e che sono spesso cibi ultraprocessati, che quindi dal punto di vista della nutrizione non sono veramente il massimo. E sul breve termine questo non va bene, ma se rimanesse solo nel breve termine potrebbe anche non essere un problema. Il problema è che invece non deve succedere nel medio e lungo termine. Una volta passata l'emergenza speriamo che invece la gente torni a consumare o torni. No, torni e aumenti il consumo dei cibi freschi, dei cibi che invece hanno una magari maggiore coerenza con quello che dicevamo prima delle diete sostenibili. Però c'è un punto anche qui, una grossa minaccia. Qual è la minaccia? Proprio perché tutto è collegato. La minaccia è che la crisi economica che purtroppo rischia di attagliarci nei prossimi mesi e porti fasce sempre più ampia della popolazione a scegliere cibi più a buon mercato, meno costosi, che spesso sono proprio i cibi che non sono quelli freschi, che non sono quelli più importanti per la nostra nutrizione. Quindi di nuovo una logica di sistema, una logica di visione olistica, è chiaro che la crisi non aiuterà. Così come non aiuterà da noi, non aiuterà nemmeno nei paesi in via di sviluppo perché ci sono delle previsioni proprio su questo. Cioè Covid impatterà su queste regioni in via di sviluppo ponendo ulteriori questioni a quelle che già c'erano e quindi peggiorando certe situazioni in termini di nutrizione e questo non aiuterà purtroppo perché scatenerà ulteriori flussi migratori, ulteriori problematiche, malattie, se c'è una nuova ondata Covid saremmo più più deboli. Quindi come vedete è tutto collegato e la risposta può essere appunto ricorso alle diete sostenibili, la dieta mediterranea è una dieta che fa bene sia al pianeta che alla salute e noi speriamo e vogliamo che questo sia il percorso da attivare. Ecco, così, vorrei coinvolgerla un po' in un momento più di consigli pratici quindi non lo so supponiamo di andare al supermercato con una frequenza maggiore di quella attualmente prescritta da una serie di norme cosa metto nel carrello? Allora io il tema è sempre quello che si diceva prima questo concetto della dieta mediterranea innanzitutto vorrei ricordare che dieta anche dall'origine della parola non riguarda solo quello che mangio ma anche lo stile di vita la dieta mediterranea è fatta di una serie di principi che la ricorderemo ma allo stesso tempo è fatta anche di una vita equilibrata bilanciata con la giusta attività fisica e anche una giusta convivialità questa è proprio parte degli stilemi della dieta mediterranea cioè questo è proprio un elemento che caratterizza fortemente la dieta mediterranea rispetto ad altre diete sostenibili oggi si parla sempre più di diete sostenibili non c'è solamente ovviamente noi inevitabilmente crediamo e promuoviamo la dieta mediterranea ma ci sono altre collegate a diverse culture però non tutte queste diete hanno per esempio questo ruolo assegnano questo ruolo alla convivialità che invece è tipica delle popolazioni mediterranee quindi questo lo vorrei dire perché non basta soltanto mangiare nel modo giusto bisogna mangiare anche con le persone giuste con le persone e con le persone giuste è quello meglio e bisogna anche però svolgere attività fisica essere avere degli interessi questo va detto in maniera molto chiara allora come sappiamo la dieta mediterranea è una dieta che si va bene ci troviamo quindi degli amici buoni un personal trainer barra esorcista secondo i casi cioè insomma più o meno disperati di bisogno e poi e poi mangiare in modo giusto mangiare in modo giusto ed è la grande diciamo il grande vantaggio della dieta mediterranea è che è una dieta appunto molto bilanciata nel senso che come sappiamo è permesso un po' di tutto purché nelle modiche quantità perché il tema della quantità è molto importante e privilegiando però il consumo appunto di verdura di frutta cercando di mangiare al minimo la carne il vino in quantità veramente modiche privilegiando se vogliamo il pesce meno i carboidrati però sempre quello che è il grande vantaggio è che è una dieta che riesce ad essere anche piacevole e per noi lo sappiamo per gli italiani in particolare rispetto ad altre diete sostenibili ha dei grossi vantaggi il punto è che per quello che è la vita di oggi non è facile rispettare questi principi e quindi ecco che viene il tema dell'innovazione l'innovazione vuol dire guardare a questi principi guardare a questi cibi con anche una prospettiva diversa ecco perché occorre non focalizzarsi solo sulla tradizione perché se noi guardiamo la tradizione la dieta mediterranea voi sappiamo che la dieta mediterranea è stata promossa in qualche modo definita in termini anche formali nel Cilento quindi ma se oggi noi andiamo in molte città del sud specialmente del sud troviamo una quantità di persone obese molto addirittura più alte della media nazionale quindi non è che dove è nata la dieta mediterranea per fortale esatto quindi bisogna cercare bisogna fare in modo che rispetto agli stilemi rispetto a a quelli che sono i principi ci siano poi le traduzioni che vedano delle innovazioni faccio un esempio siamo tutti come hai detto giustamente tu prima importanti prodotti freschi però siamo tutti impegnati nell'attività di lavoro che ci prende quindi i prodotti freschi oggi per fortuna in molti casi riusciamo a allungare la durata sullo scafare dei prodotti freschi ma senza far cose particolarmente pericolose con l'innovazione allora l'innovazione serve anche a questa fare in modo che pensiamo al tema del latte il latte fino a qualche anno fa poteva durare soltanto 3-4 giorni oggi dura molto di più senza perdere i valori nutrizionali il tema delle verdure ci sono molte verdure o il tema di molta frutta che riesce a durare di più senza per questo penalizzare il gusto o peggio la sicurezza nel senso di essere coerenti con la salute delle persone perché non c'è nessun trattamento particolarmente dannoso Allora io adesso vorrevo passare a una delle domande del pubblico che la regia mi informa che può anche passare da qualche parte in sua impressione oh eccola qua allora Eleonora Bassi ciao Eleonora ci scrive quali saranno gli effetti della pandemia nell'agricoltura dei paesi del sud del Mediterraneo una questione insomma di rilievo sì allora questo mi permette di dire questo focus sul Mediterraneo è dovuto al fatto da parte mia che da 6-7 anni sono alla guida di una iniziativa Euro Mediterranea che poi si è trasformata appunto in una fondazione di diritto spagnolo che sta a Barcellona che io presiedo che lancia delle call dei finanziamenti ogni anno sull'ordine 70 milioni di euro per promuovere l'innovazione e la ricerca sui temi dell'agri-food nel Mediterraneo quindi noi per 7 anni lanciamo queste call e finanziamo una serie di progetti sono in questi primi due anni di attività di call di finanziamenti abbiamo già finanziato 83 progetti con oltre 110 milioni di euro erogati ci sono 700 questo è il programma di ricerca e innovazione nel Mediterraneo più importante mai lanciato cioè sono 500 milioni di euro solo per il Mediterraneo è una parte di Horizon 2020 quindi diciamo i 19 paesi euro-mediterranei più la Commissione Europea in maniera paritaria finanziano questa grande iniziativa quindi in questa grande iniziativa all'interno di questa grande iniziativa appunto ci sono presenti con pari dignità i paesi della costa sud e quello che stiamo notando ovviamente è che c'è una fame notevole di innovazione in quei paesi tra l'altro questi progetti di cui dicevo noi che noi finanziamo devono sempre avere all'interno della partnership uno almeno unità di ricerca e innovazione della costa sud e una unità di ricerca e innovazione della costa nord quindi c'è sempre la paritarietà di presenza perché altrimenti ovviamente serve poco nella costa sud c'è una grande fame di innovazione perché perché già prima di covid la situazione non era banale cioè purtroppo qui sta un mondo dove arrivano nuove crisi ma non è che arrivano nuove crisi su dei contesti floridi cioè arrivano nuove crisi su dei contesti già in difficoltà vorrei ricordare che il Mediterraneo dopo l'Artico è l'area del mondo ritenuta da tutti gli esperti come la più vulnerabile al cambiamento climatico quindi gli effetti del cambiamento climatico purtroppo nel Mediterraneo saranno più forti che in altri luoghi che in altre aree e quindi l'agricoltura è fortemente è fortemente colpita da questo pensiamo ovviamente al tema della scassità d'acqua quindi periodi siccitosi eventi estremi e questo naturalmente rende fare agricoltura nei paesi a costa nord specialmente la Spagna e alcune parti dell'Italia ma più che altro a costa sud è estremamente difficile quindi l'innovazione è un'innovazione che deve aiutare le produzioni agroalimentari nella costa sud ora che cosa può portare Covid può portare innanzitutto quello che ho accennato all'inizio il tema della sicurezza alimentare cioè questi paesi questi paesi in questi ultimi anni inevitabilmente forse anche giustamente è difficile criticare a tratti dalla maggior valore aggiunto che danno certe produzioni tipo i legumi vegetali come reddittività hanno tentato di spostarsi da delle coltivazioni più basiche tipo grano a coltivazioni a maggior valore aggiunto un peccato è che però queste coltivazioni a valore aggiunto richiedono molta acqua e il problema forte è che in un momento in cui si rischia di non avere sui mercati globali tutta quella quantità di materie prime che noi vorremmo queste materie prime aumentano di prezzo e quindi paesi come i paesi della costa sud che hanno bisogno di grano hanno bisogno di materie prime perché sono paesi dove ci sono anche dei consumi più semplici per certi versi si trovano a non disporre delle quantità oppure a disporle a quantità a prezzi maggiori se questo avviene e speriamo che non avvenga ripeto speriamo che queste rotture nelle filiere internazionali non avvengano ma se questo avviene l'aumento dei prezzi può causare dei problemi anche di tipo sociale come è successo nella prima vera araba la prima vera araba era stata in qualche modo stimolata anche dall'aumento dei prezzi delle derrate alimentari più basiche quindi è tutto collegato speriamo che non succeda questa volta certo certo e torniamo insomma alla questione di prima la salute quindi è una sola anche la salute sociale è una sola ed è strettamente collegata alla piramide dei bisogni dove il cibo sta veramente nei gradini più bassi sì però vedi fino a qualche tempo fa si pensava appunto che il cibo comunque si trovava e comunque era buon mercato magari anche di qualità non ottimale però si trovava ora invece abbiamo capito che c'è il rischio per quei motivi che ho detto prima che anche il cibo più basico non sia di facile rinvenimento e magari a prezzi più alti questo questo cambia perché poi tutti i paesi cominciano a fare le politiche di autosufficienza chiudono le frontiere se chiudono le frontiere è un disastro perché in un mondo che è abituato a flussi in materie prime continue questo capite che specialmente quando c'è di mezzo a mangiare diventa un problema ecco però noi non stiamo andando avanti in questo percorso giorno per giorno senza sapere cosa ci aspetti e con tutte queste cose che non sono in nostro potere di quali mezzi ci si può dotare per arginare Covid è insomma un acceleratore di cose che acceleratore di prodromi di sintomi già presenti certo certo non c'è dubbio la soluzione migliore naturalmente è quella che tutti vorremmo è quella della cooperazione noi dobbiamo infatti dato quelle premesse che dicevo prima una buona soluzione è quella della dieta mediterranea o comunque di prodotti della dieta mediterranea perché ripeto ci sono degli studi che dimostrano che l'impatto sulla salute e l'impatto sull'ambiente dei prodotti della dieta mediterranea è un impatto inferiore rispetto ai prodotti di altre diete la dieta iperproteica chiaramente consuma una quantità di acqua immensa induce la definizione l'allestimento di strutture industriali di allevamento che hanno degli effetti devastanti sull'ambiente quindi l'esempio la differenza fra questa dieta iperproteica e una dieta con quella mediterranea che dice sì tu puoi anche mangiare proteine di riazione animale ma con grande attenzione quantità modiche c'è una bella differenza quindi questo tipo di dieta ha dei vantaggi proprio perché ci porterebbe avere maggior rispetto della salute dell'ambiente delle persone però lei diceva anche che la dieta mediterranea noi insomma la portiamo come bandiera perché non devo neanche dirlo perché ma non è l'unica tipologia di dieta sostenibile certo può fare altri esempi sì cioè io mi è capitato in in Malesia di fare un intervento parlando della dieta mediterranea e giustamente un signore salzato dicendo guardate che veramente da queste parti abbiamo altri tipi di diete che sono sostenibili senza bisogno che veniate voi a colonizzarci cioè bisogna che state attenti ogni popolazione ogni area può avere delle diete che hanno più coerenti con quello che è le caratteristiche del contesto nel caso delle popolazioni asiatiche vi sono delle diete che hanno di nuovo poi alla fine cose abbastanza simili c'è poco consumo di carne presenza di pesce caldoidrati che non sono naturalmente gli spaghetti però ci sono questo tipo di e poi ci sono anche delle diete sostenibili che sono diete per esempio il caso più eclatante è quella dieta proposta sulla base degli studi della commissione che ha creato un'importantissima rivista che si chiama Lancet Lancet insieme a una think tank sul food ha lanciato un paio di anni fa una dieta diciamo sostenibile che si basava su dei principi diversi da quella mediterranea che è molto più rigida molto più rigorosa che però ha trovato anche molte proteste perché non è così rispettosa delle tradizioni locali come invece è la dieta mediterranea cioè quello che è il vantaggio della dieta mediterranea è che è molto più sociale cioè molto più rispettosa di quelle che sono le caratteristiche delle produzioni delle tradizioni della civiltà dei paesi e quindi è più si inserisce meglio nel contesto diciamo e quali erano i principi di questa dieta che accennava? i principi di questa dieta fondamentalmente hanno fatto una specie di operazione di backcasting cioè vedere che cosa ci vuole per essere sostenibili nel medio termine detto questo quindi in termini di consumo di proteine in termini di consumo globale di carboidrati di grassi tornando indietro hanno deciso quanto deve contenere ciascuna piatto ciascuna anzi loro la sua settimana ogni settimana quanto siamo ottenuti a mangiare come proteine carboidrati grassi eccetera eccetera e per ciascuna di questa categoria definendo dei prodotti quindi questo vuol dire che tu mangi pochissimi grammi di carne alla settimana per esempio che rispetto a quello che sono invece i principi della dieta mediterranea che invece non è così rigida oppure la cosa che ha scatenato molte proteste tu sei praticamente fuori da qualsiasi utilizzo di formaggi o di salumi che è chiaro che con grande modellatezza secondo la dieta mediterranea comunque non è strano che tu lo mangi ecco diciamo non è proprio centrale ma non è strano quindi diciamo una dieta molto molto rigida molto forte come impatto però è quella che secondo questi studi è l'unica che dovrebbe permettere di mantenere di essere dentro i cosiddetti limiti del pianeta il pianeta c'è dei limiti di tipo sostenibile allo sviluppo del pianeta e quindi se uno veramente volesse essere coerente però ripeto ci sono state delle grosse proteste proprio perché non è per niente legato alle caratteristiche delle società dove poi bisogna usare queste dieta secondo me la cosa più importante sarebbe invece fare una grande sforza di educazione alimentare partendo dalle scuole e far capire ai ragazzi fin da piccoli che cos'è importante per la salute propria e dell'ambiente e questo non è per niente facile ci sono molte attività in corso il ministero dell'istruzione ha dei progetti ha dei programmi su questo e se queste cose riuscissero ad andare avanti renderebbero i giovani più responsabili e più attenti e noi comunque partiamo meglio che in altri paesi sicuramente in altri paesi non c'è l'attenzione alla qualità del cibo che è uno degli elementi caratterizzanti di una dieta come quella mediterranea la mediterranea si basa sul fatto che le materie prime siano di qualità se noi già partiamo pensando che qualsiasi cosa che metto in bocca è uguale a quell'altra abbiamo tradito i principi di una dieta abbiamo già perso fino all'inizio venite a salutare certo però ecco mi verrebbe anche da dire che quindi in relazione al discorso che si faceva prima proprio sul coté economico di questa faccenda esiste anche una differenzazione quindi sociale c'è chi si può permettere materie prime di un certo tipo e chi si può permettere materie prime di un altro tipo però in generale quello che sembra di vedere è che tutti i prodotti lavorati semilavorati semipronti adesso insomma mi sfugge la terminologia corretta costino meno in proporzione rispetto alla materia prima non lo so le faccio un esempio banale a me fa sempre impressione che adesso la butto proprio così da casalinga di Voghera il minestrone preparato costa al chilo 1,79 euro trovare al chilo una verdura al chilo a 1,79 euro non sempre è così facile così per un esempio questo è un grande punto che alla base di tutto il dibattito ora sulle diete sostenibili cioè è facile parlare di questi argomenti però il problema è che spesso i cibi meno processati i cibi di più alta qualità sono anche quelli che hanno dei costi non sempre ma più alti quindi è facile chiedere alle persone di consumare di acquistare questi tipi di cibi però poi obiettivamente bisogna vedere qual è il livello di reddito però ci sono anche degli studi che dimostrano e qui diventano le cose un pochino più difficili che dimostrano che sono tre cose da dire la prima cosa è che se uno guarda i principi di una dieta bilanciata richiede meno quantità di quello che a volte pensiamo e quindi essendoci meno quantità il costo potrebbe essere poi alla fine ricompensato dal fatto che è vero l'unità di prodotto potrebbe costare di più però poi alla fine in fondo si può dire mangiando meno si riesce a rispettare anche il budget la seconda cosa che da dire su questo argomento è che forse ci sono un po' delle distorsioni sull'argomento cibo nel senso che il vero costo del cibo forse non è solo quello che ci fanno pagare al supermercato cioè l'esempio proprio degli allevamenti industriali di bestiame certo se il cibo che viene prodotto costa poco però poi dopo questi allevamenti contribuiscono all'assalto del coronavirus dal mondo animale al mondo umano cioè vuol dire non so se forse il costo è un altro ecco forse il costo è un altro forse ogni hamburger dovrebbe prendersi un pezzettino di migliaia di miliardi che costerà covid ma nessuno riesce a farglielo pagare questo questo è il tema terzo argomento centrale su quello che hai detto te giustamente è chiaro che bisogna riuscire a fare in modo non è facile fare in modo che i cibi di valore abbiano un costo che non sia più elevato di quelli non di valore questo questo non è facile sappiamo benissimo che la caseringa di voghera come dicevi tu spesso guarda solo al costo in Italia per fortuna non è solo così in altri paesi invece per fortuna è solo così quindi ecco qui ci vuole educazione alimentare certo va detto che se le persone da questa terribile storia di covid traggono qualche cosa e capiscono che forse nel bilancio familiare se c'è spazio sperando che ci sia spazio forse spendere meno per la settimana bianca spendere magari un po' di più per il cibo può essere utile credo che sia un grande insegnamento questo non facile non facile però può essere un grande insegnamento certo allora siamo in chiusura mentre lei pensa ad un titolo da consigliarci per leggere qualcosa di intelligente in questi giorni che ci separano non sappiamo da cosa ci separano diciamo dagli inizi di maggio e chiudiamola qui io chiedo al nostro regista Leonardo di farmi passare in sovrimpressione gli ultimi due commenti così insomma giusto per dare dignità a chi cortesemente ci ha seguito quindi Marta dice che è il momento giusto per cambiare davvero tutti i modelli di produzione mi sembra insomma un buon un buon messaggio mentre invece il prossimo il prossimo commento è di Chiara che ci dice che condivide quanto lei dice sull'educazione da cui dobbiamo effettivamente da cui dobbiamo effettivamente ripartire mi sembra che sia molto vero no? perché se dovessimo grazie perché se dovessimo passare insomma un se dovesse rimanerci un messaggio da questa da questa piccola chiacchierata compriamo di meno compriamo meglio sì sono frasi difficili da dire perché sembrano un po' elitarie e snobbistiche però la frase appunto facile è mangiare meno mangiare meglio mangiare tutti qualcuno l'ha detto qualche tempo fa beh è un po' sembra di essere cattiva però se noi guardiamo veramente una delle piaghe di questo secolo una delle piaghe del Mediterraneo specialmente il Mediterraneo che è strano è l'obesità il diabete ha un costo altissimo altissimo l'Egitto è uno dei dieci paesi con più diabetici al mondo ci sono delle forme molto gravi ci sono si arriva al 30% di persone che soffrono di obesità o malnutrizione quindi questo è un grande un grande tema allora forse sulla quantità sulla quantità forse serve bene stare attenti perché purtroppo la quantità grande di cibo ultraprocessato cibo che ha problemi di tipo nutrizionale porta a quello che vediamo e questo sicuramente non fa bene né a queste persone né a tutta la comunità perché il modo in cui sono creati questi prodotti questi cibi spesso sono prodotti non sono modi non sostenibili che provocano quello che abbiamo detto prima e poi c'è il tema che c'è un costo sociale perché poi giustamente queste persone vanno curate quindi questo è un tema non facile l'educazione può aiutare a far capire che forse spegniamo meno magari in cellulari e spegniamo qualcosa in più in quello che mangiamo bene bene pronto allora un consiglio di lettura da darci o insomma due quanti vuole sì dunque prima però volevo dirvi una frase carina che potrebbe anche in qualche modo seglare quello che abbiamo detto in molti sui social in molti post così circola una frase che credo che sia a volte un po' strumentalizzata però per noi come sistemi agroalimentari del Mediterraneo è molto corretta dice noi non ritorneremo non vogliamo tornare alla normalità non vogliamo tornare alla normalità perché è proprio la normalità che era il problema questa è una frase un po' dura per certi versi però questo perché fa riferimento al fatto che la nostra società la nostra economia come l'organizzata come è organizzata sicuramente è uno dei fattori scatenanti di questa anormalità che è il mondo in cui ci troviamo adesso quindi mi sembra una frase abbastanza dura però ha un contenuto importante secondo me questa frase è particolarmente valida invece per i sistemi agroalimentari cioè mentre su tutto il resto potrebbe anche essere dibattuta però sui sistemi agroalimentari se la normalità è tornare a fare il cibo nel modo in cui si è sempre fatto negli ultimi anni mangiare nel modo in cui si è mangiato vedere i processi che sono visti beh tornare a quella normalità è masochistico perché contribuiamo a veramente a minare il nostro mondo questa è l'ultima a resto mondo esatto come si è dimostrato il mondo va avanti anche senza di noi se proprio insistiamo e con i sistemi agrofood che avevamo prima rischiamo veramente di contribuire titoli da suggerire io suggerirei due titoli uno è abbastanza facile in questo momento che è un libro che ha una grande capacità di introspezione psicologica tutta una serie di cose che ora ritroviamo qualche secolo dopo che non può che essere i Promessi Sposi di Alessandro Manzoni che è un libro dove tutti i temi legati a quello che è successo la peste e tutti gli avvenimenti di contorno si possono rileggere benissimo quando io ho riguardato un po' in questi giorni cioè cose che quando noi pensiamo agli untori cioè prima quando da scuola si sono letti i Promessi Sposi che strano che la gente diceva che diceva a qualcun altro quello è un untore noi siamo capitati in situazioni simili ci siamo trovati a dare un untore a categorie di persone come fecero nel 600 quindi stiamo attenti perché poi oppure la fuga da Milano dei ricchi cioè alla fine le famiglie ricche che andarono via a nottetempo insomma vedo che molte cose sono molto attuali poi un altro libro invece recente un po' più recente diciamo che a me è piaciuto che è il libro di Sandro Veronesi che è Colibri che è un libro che tra l'altro simpatico perché ha molti riferimenti alla Toscana e addirittura a Siena quindi è un libro che probabilmente nei momenti così che siamo un po' sospesi si legge volentieri bene bene allora io insomma ringrazio il professor Ricca Boni per essersi prestato a questa nostra chiacchierata e a non aver vissuto insomma il nostro invito come così una minaccia a una visita fiscale insomma a un accertamento fiscale o qualcosa di genere grazie grazie a voi interessante ringrazio anche gli ultimi commentatori non so se dalla regia possiamo mandare proprio in extremi gli ultimi commenti abbiamo ci dicono appunto che il tema è molto no questo l'abbiamo già letto sai che il commento è molto interessante e che andrebbe abolito il minestrone che non tutela il lavoro degli agricoltori più qualità ed equità più filiere dirette sì no scusa su questo tema è chiaro che un grande argomento è quello della redditività e la profitabilità degli agricoltori quando dicevo prima che noi paghiamo cibo troppo poco paghiamo cibo troppo poco e quel poco viene tolto agli agricoltori cioè noi al grande tema sociale covid ci obbliga anche a rivedere il rapporto città-campagna cioè probabilmente vivere in campagna vivere un po' più decentrati potrebbe essere più interessante in futuro rispetto a quello che abbiamo fatto finora e allora la campagna dobbiamo rivitalizzarla e dobbiamo però permettere a chi lavora in campagna la giusta retribuzione se noi con l'adequazione alimentare capiamo quali sono i consumi giusti acquistiamo i prodotti giusti li paghiamo nel modo giusto aiutiamo i ricoltori a stare in campagna aiutano con la natura e il mondo va meglio quindi di nuovo grazie la saluto effettivamente è una sola e noi ci rivediamo mentre i nostri commenti scorrono noi ci rivediamo domani con un nuovo appuntamento con Virtual Studium come sempre tutti i giorni alle 17 domani è giovedì quindi anche appuntamento con International Virtual Studium alle ore 18 sui nostri canali Instagram grazie grazie a tutti grazie a lei grazie Leonardo in regia insomma buon pomeriggio buona serata a tutti grazie grazie grazie